Michele Leone, scompasso da poco, è andato via in silenzio, un personaggio stupendo. Con tanti problemi di salute che ha avuto Michele, aveva San Nicola nel cuore e per San Nicola si è impegnato nella protezione civile, per San Nicola ha fatto tante iniziative, per San Nicola ha speso anche il suo tempo per parlare della sua città al capo dello Stato in diverse lettere che gli ha inviato per manifestare il suo Stato di salute, aveva bisogno di qualcuno che lo animasse e aveva bisogno anche di parlare della sua San Nicola che ha portato nel cuore fino all'ultimo giorno. Michele Leone, uno dei più assidui lettori dei giornali di San Nicola, ma andava alle scuole elementari con i giornali sotto braccio a otto anni, a sette anni, credo che Michele Leone, che doveva chiudere tutte le trasmissioni di Radio Caserta Nuova che animavi tu in un certo giorno della settimana, meriti un grande applauso per la sua volontà di esistere, per la sua volontà di andare avanti nonostante tantissimi problemi di salute che ha avuto, con San Nicola nel cuore. Grazie. 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 Grazie.